Il protagonista nell'ultima parte di questa tappa per la DMC e per il proprio capitano, Cadelemas, che oggi ha guadagnato anche una posizione. Sì, è un po' pericoloso la giornata così, le compagnie si sono cadute, erano tutte le strade bagnate, si va come correre sul sapone, il finale è un po' strano. Sei stato bravissimo però in questo finale. Sì, eravamo davanti, abbiamo potuto fare buona andatura, siamo preparati bene per questo giro e vediamo un po' cosa dicono gli altri stasera. Grazie, bocca al lupo. Grazie.